Regionale veloce 20.31 per Milano Centrale, delle ore 20 e 20, servizio ferroviario metropolitano, linea 2, 42.94 per Vinerolo, delle ore 20 e 27, al binario 1. Passing just and find the train, Regionale veloce 20.48 to Torino-Lingotto, with scheduled departure at 20.12, regionale veloce 20.31 to Milano Centrale, with scheduled departure at 20.20, servizio ferroviario metropolitano, linea 2, 42.94 to Vinerolo. With scheduled departure at 20.27, minutes at platform 1. Grazie. 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 Grazie.